Eder Parisi, la ballerina, attrice che tutti conoscono, è stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che fa. Quando è entrata si è seduta e si è voltata verso il pubblico e alzato il pugno, il saluto comunista, con un sorriso smagliante, probabilmente pensando che il pubblico di Che Tempo che fa è comunista. Fabio Fazio nell'imbarazzo gli ha detto per favore quel gesto che hai fatto sarebbe... Lei dice quale gesto? È quello che hai fatto lì coreografico all'inizio, non lo posso io ripetere perché sennò immagina però sarebbe meglio che tu non lo rifacessi. E lei quindi ha capito e ha rifatto il gesto e ha detto questo è il simbolo della difesa dei diversi. Forse voleva dire che i comunisti sono dei diversi, non so, voi che cosa capite perché Fazio ha detto ma tu non vivi in Italia, quindi per favore sei lontana in questo momento, fare quel gesto. Lei ha detto no, questo è il simbolo che difende i diversi. Grazie. Grazie. Grazie.